Il terzo giorno, questo è quello che siamo abituati a vedere noi quando ci svegliamo. Sì, tutto bello, tranquillo. Stamattia Maria non ha sentito cinghiale, a parte me che è rosso. Dove andiamo, Cisere? Cosa facciamo? Dove andiamo? Oggi è il terzo giorno della nostra vacanza a Sassetta, a Sassetta, un po' vincita di Livorno, in Sardegna. A Sassetta e andiamo alle Terme. Io penso che ci perderemo perché le Terme non è una cosa normale sarda e è difficile per noi sardi trovare le Terme. Sì, sono attaccate al nostro agriturismo, quindi sono 800 metri in mezzo del bosco. Qui vedete, dei boschi. Ed eccoci le Terme, con questa piscina, con questo fuoco acceso a 32 gradi, come c'è detto la ragazza, 36 gradi da sopra, 82 gradi, donna bollente e 38 gradi una piscina interna, poi ci sono saune e cose varie che Maria farà io. Allora... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo mangiato e abbiamo notato. Siamo all'interno dell'osteria, all'interno delle terme. Abbiamo mangiato un tagliere di affettati e formaggi, due bicchieri di vino e della frittata. Mariano, gelato biodinamico, artigianale biodinamico. Vai a fare un'intervista? All'interno dell'interno della frittata. Ciao. All'interno dell'interno della frittata. All'interno dell'interno della frittata. All'interno dell'interno 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 dell'inter